E potremmo raccontare quanto lunga sia stata la storia di quelli che hanno detto dobbiamo cambiare, ridurre il numero dei parlamentari. Pensate a quei movimenti politici che erano nati per cambiare il paese, pensate un po', che volevano scardinare tutto ed oggi sono a difendere le loro firme false e il mantenimento del credito. Gridavano onestà, onestà, onestà ed oggi hanno solo cambiato una consulazione, omertà, 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 più o meno la stessa cosa come cadenza. Eppure, perché questo è il punto fondamentale, eppure questa riforma si spiega benissimo dal punto di vista tecnico.